Welcome to D.C.W. D.C.W. La luce della ragione. Logica e fede. Il corpo battuto dalla mente. Ed è quello che succederà il 27 settembre. Total Combat Wrestling. Bash of the Best. Il miglior lottatore hardcore. Breakbones. Contro il miglior lottatore volante. Extreme Panther. Contro il miglior lottatore tecnico. Il marchese. Qui presente. Non importa quanto tu sia forte. Non importa quanto grande sia la tua agilità naturale. La mia mente troverà sempre una contromossa. E io sarò il nuovo campione italiano. E Extreme Panther. Un consiglio particolare per te. Breakbones è inarrestabile. Ma sarà un gioco da ragazzi per me manovrarlo. E al momento giusto. Io affonderò i miei artigli nel tuo ventre. E niente fermerà il dominio del culto della luce. E in questo modo. Grazie a tutti.